Vai, 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 non ti preoccupare, hai la precedenza, vai, Manu tieniti sempre diritta, sta guidando Emanuela, stiamo facendo i termi, Manu non accelerare dopo, stai accelerando, infatti più di là siamo a Isacchissinari, ha superato il motorino, ha superato il motorino, Vai diritto, troppo sotto no, neanche troppo in mezzo, è sempre lì, esatto, Speriamo che non facciamo nessun incidente live, documentato proprio, ora stai arrivando a un incrocio, quindi rallenti un poco, però vedi che non c'è nessuno, quindi accelera e passa lì in incrocio, vai, 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 non ne ha la retta, chissi, tanto ti passa annanze, chissi, vai piano perché c'è una macchina che questo non farà lenta, vai, 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 fanno superare, non ti preoccupare, ci va lo spazio, non spacco il telefono, però no?